ciao 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 oggi vi porto il report di otto sbustate cioè di una sbustata di otto pacchetti di lord of tachionic e domani ne prenderò altri due, noi erano arrivati dieci e non mi dicono hanno potuto prendere solo otto perchè oggi avevo disponibili questi soldi gli altri li avevo lasciati a casa e domani mattina prenderò gli altri dove magari ve li sbustano in diretta se ci riesco ma visto che oggi sono passata al volo all'edicola perchè dovevo prendere magari se c'erano qualche starpax per mio cugino infatti li ho presi c'erano ancora mi ne ho presi 5 ha sbustato i scuri d'ao volevo io il terzo vabbè niente lascio a mostrare e io mi son preso 8 di questi e le ho prendere le 10 infatti due me li sono fatti tenere domani mattina li andrò a tirare comunque in questi cosa ho sbustato sbustato 5 file 5 file ragazzi si si molto molto bene ok vi faccio vedere un po' le common 5 4 eh sono tutti uguali ah no 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 0 e degli imprese uno scuolo tutti e quattro i tagghiatti in monocopia vale a dire reatran, burner stream e lightning cosa sarà nel comodo? passiamo alle rare mezzo phantom beast lega lupo un bufalo firefist una grande balina, un eseguire un avvitamento pugile indomito gioco di piombo draco fantasma, domestico delle arpie questi vanno nell'album poi ho sbustato un tempest e il terzo tidal che mi serviva nel mermaid e questo non lo do del resto posso darle tutte e foil e qual sarà che si chiama come foil sbustato 3 super, una ultra e una carta bella super con stellar sombrero la matcha phantom beast in seguita tartaruga quella là dello sneak una tooth cake magi dolce ultra questa merda si chiama alza rango magico forza di barian e poi ho sbustato il numero 107 non lo do la seconda cost che sbusto io infatti la tengo come equis non la darò mai neanche se dovessi smettere di giocare la venderei ma proprio mai queste le posso dare tutte queste no queste le posso dare queste qua no 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 quindi ragazzi per questo video era tutto spero che vi sia piaciuto in un certo senso perché ho speso tipo si comprato 40 euro sì 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 giusto 40 40 perché inizialmente ne avevo presi due e avevo sbustato questo poi ho detto però non sono ancora usciti la ultimate la secret si deve essere ancora una secret in quei due pacchetti e la ultimate perché vado tutto bene poi erano dieci pacchetti i borghi sono preziranno molto o comunque almeno una fuori ci dovrebbe essere in quel pacchetti da che ho lasciato la da prendere domani quindi ho detto non vado a prendere altre 4 ho presi e poi verranno avanzati altri 10 ho detto massiva spendiamo anche pezzi e ho bussato negli altri 4 ho bussato questo queste no queste queste qua e negli ultimi due ho una tooth cake sta di fatto ragazzi che dopo vi porterò la deck profilina mail completa col main deck almeno questa idea extra vedremo e subito dopo questo video vi porto appunto la deck profilina mail e magari dopo se ci voglio vi porto anche il trader aggiornato e ragazzi per questo video di sculata perché ho trovato questo che mi piace e lo volevo in effetti è tutto e buon ciao al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti